Noi si dice che nel nostro ambiente quando si è poliziotti si è poliziotti per sempre, quindi anche se non siamo più in servizio attivo vogliamo esserci con chi c'ha sempre. Infatti il modo della polizia è esserci sempre e noi nonostante non siamo più in servizio attivo vogliamo esserci sempre con chi c'ha sempre. Così l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato ha deciso di donare mille mascherine da distribuire al personale impegnato quotidianamente nei servizi di controllo del territorio per far rispettare le misure anti-covid-19. Non possiamo fare altrimenti altre cose se non essere vicino con questo gesto fattivo un po' simbolico ma anche fattivo, è simbolico perché viene fatto in questo giorno in cui c'è la festa della polizia o la ricorrenza della fondazione della polizia e lo facciamo in maniera fattiva perché le mascherine sono quei presidi che servono e servono sempre, ne mancano sempre quindi anche se sono un numero consistente ma forse esiguo cioè sono mille che abbiamo acquistato appunto con i fondi dell'Associazione e lo vogliamo donare ai nostri colleghi per essere utili a loro e dimostrargli così anche fattivamente che gli siamo vicini. Una lettera infine ed altro materiale di protezione è arrivato anche dal Regno Unito un gesto per ringraziare il lavoro svolto quotidianamente dai poliziotti.